I pazienti stanno andando molto bene, stanno rispondendo molto bene al trattamento sia farmacologico che interventistico e quindi stanno avendo benefici sia come qualità di vita che come aspettativa di vita. Spostare di pochi centimetri la sede dell'elettrocattetere del pacemaker dalla punta del cuore al suo centro per ottenere un netto miglioramento nel funzionamento dell'apparecchio ma soprattutto negli anni successivi una migliore qualità di vita del paziente. Facile a dirlo a parole, decisamente più complicato realizzarlo nel corso di un intervento chirurgico ma è da questa strada che passa il futuro della cardiochirurgia. Lo hanno capito da alcuni anni all'ospedale di Lavagna dove ormai questo tipo di attività grazie alla professionalità e alla preparazione di tutta l'equipe guidata oggi dal professor Parodi ha soppiantato quella tradizionale. Sui quasi 370 interventi eseguiti in un anno, più di 300 sono stati effettuati con questa tecnica all'avanguardia richiamando medici e pazienti da tutto il resto d'Italia, i primi per imparare, i secondi per dare una nuova vita al proprio cuore. Qui abbiamo sviluppato un filone di ricerca e anche di assistenza nell'ambito aritmologico e adesso gli operatori veramente che sono molto preparati e formati per tutte le evidenze dei pazienti stanno lavorando bene direi all'avanguardia e quindi abbiamo intrapreso delle procedure che sicuramente in futuro verranno fatte in tutti gli ospedali della regione d'Italia ma che qui facciamo da anni. L'intervento per l'installazione del pacemaker, dispositivo che invia impulsi al cuore per aiutarlo a mantenere il battito può durare anche tre ore e viene realizzata da un'equipe di sei persone, medici, infermieri e anche un ingegnere. Il piccolo apparecchio di fatto è lo stesso, non cambia rispetto agli interventi tradizionali ma nel tempo, grazie alla più efficace collocazione dell'elettrocatetere il suo funzionamento è migliore e più efficace e i dati lo dimostrano. Abbiamo dei riscontri eccezionali nel senso che l'ecografia del cuore è fatta prima e dopo l'impianto e soprattutto la visita del paziente ci dimostra la gran parte delle volte un enorme cambiamento della sintomatologia si parla di pazienti che riprendono ad avere un'attività compatibilmente spesso con l'età che può essere avanzata ma acquisitano un tipo di socialità, di vita completamente diversa noi siamo molto contenti di questo.